Sindaco Spinelli, oggi la presentazione del progetto Spiagge 2020. In conferenza ho fatto una domanda specifica per quanto riguarda i fitti selvaggi e la qualità del turismo. Il tema si incrocia, ecco, quello delle spiagge. Noi quest'anno attiveremo con un'ordinanza il controllo delle spiagge. Abbiamo individuato, innanzitutto partiamo dalla gestione, abbiamo individuato 17 spiagge, 17 tratti di arenire libero, sul quale abbiamo, rispettando i distanziamenti imposti dalla legge, installeremo circa 1800 stalli, cioè circa 1800 posti dove poter posizionare il proprio ombrellone. Lì delimiteremo, questo distanziamento sarà effettuato tramite sacchetti di uta che noi posizioneremo sul litorale, che insomma marcheranno proprio il punto dove poter installare il proprio ombrellone, quindi nel rispetto delle norme e del distanziamento. Poi per quanto riguarda l'app, il discorso fitti selvaggi è un'azione che è già in corso da diversi anni, sul quale stiamo lavorando e quest'anno sarà intensificata perché non significa evitare le prenotazioni, non fare i controlli oppure liberi tutti. Anzi, viceversa, quest'anno i controlli saranno aumentati perché destineremo ulteriori risorse umane a fare questo tipo di lavoro di controllo sul territorio, sui fitti, sul suolo pubblico, insomma tutte le attività che devono essere fatte dalla Polizia Municipale e quindi avremo una parte della Polizia Municipale che lavorerà solo sulla tassa di soggiorno e quindi sulla verifica dei fitti.